Buongiorno o buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi vorrei parlarvi dei capitoli 342 e 343 di Black Clover e spiegare cosa è successo. Tabata diciamo che ha rivelato qualcosa sul passato di Yami, ma ha sicuramente lasciato altro in sospeso, perché mi sembra tutto un po' troppo strano, ma come sempre l'autore non perde tempo e subito si va al sodo, ma ovviamente andiamo con ordine, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Allora, il 342 non solo ci racconta un po' dell'infanzia del capitano Yami, ma ci introduce anche una specie di leggenda che riguarda proprio il Regno del Sole. La mitologia è alquanto interessante, infatti si dice che in antichità in quei luoghi esisteva un drago a cinque teste che seminava terrore e distruzione per tutto il paese, ma questo tremendo animale venne placato da una fanciulla celestiale, e dato che è stato usato il verbo placare e non quello di uccidere, vuol dire che non dovrebbe essere morto, e la leggenda continua dicendo che il potere magico di questa bestia si diffuse su tutto il paese del sole, redendo l'oceano nero e stagnante e creando poi una connessione con l'inferno, avendo piegato lo spazio-tempo. Ora dobbiamo fermarci un attimo. Naturalmente il mare nero e la connessione con l'inferno mi hanno fatto pensare al potere dell'oscurità della famiglia Yami. Infatti noi sappiamo che il capitano del toro nero era importantissimo per aprire le porte dell'altro mondo, dove vivono appunto i diavoli, i demoni, quindi possiamo pensare che quel luogo sia a tutti gli effetti l'inferno. Quindi cosa voglio dire con queste parole? Voglio dire che in realtà non esisteva un drago a cinque teste, ma che questo mostro sia in realtà il clan Yami, che possedevano tutto il potere dell'oscurità. Ma ad un certo punto una certa persona, forse qualche antenato di Sukehiro, è riuscito a placare questi individui, rendendoli mansueti se così vogliamo dire, e sono diventati in seguito i difensori del clan Ryudo. Ho detto così perché quando Ichika racconta la verità sulla sua famiglia, Tabata disegna 5 persone che possiedono il potere dell'oscurità, e poi subito dopo ci rivela la mitologia del drago a cinque teste, che ha reso il mare nero grazie al suo potere magico, quindi ho fatto 2 più 2 ed ho collegato entrambe le cose. Ma quel drago potrebbe anche collegarsi alla famiglia dello Shogun, dato che nel nome di quest'ultimo ed anche nel cognome troviamo la parola Ryu, che vuol dire proprio drago in giapponese. Sono sicuro che Tabata vuole un po' trollarci, ma la verità sta lì, anche perché la famiglia Yami era un gruppo di assassini e venivano chiamati Kijin, che sarebbe un altro modo di chiamare i oni o i demoni, per questo li ho associati a quel drago a cinque teste. Ma la storia che racconta Ichika potrebbe anche essere falsa, ma per ora non vorrei sbilanciarmi troppo. E ritornando al capitolo 342, a quanto pare il padre di Sukehiro vorrebbe far diventare quest'ultimo è il più forte del clan Yami, addirittura vorrebbe dargli il titolo di dio demoniaco, e ciò continua a collegarsi alla leggenda secondo me. Inoltre sempre il padre di Ichika ammette che il suo figlio possiede più potere magico del figlio del loro signore, e sappiamo che il clan Yami è al servizio della famiglia Ryudo, e penso quindi che quell'uomo stesse parlando proprio di Ryuya, ma noi sappiamo che non possiede alcun potere magico, nel presente però. Nel passato nessuno ci vieta che potesse possederlo, senza problemi, perché poi lo vediamo anche nel flashback di Ichika, e notando bene, Ryuya non possiede l'occhio che tutto vede, e stando a ciò, probabilmente quell'occhio super potente è un qualcosa che si tramanda di generazione in generazione della famiglia Ryudo, e sempre ipoteticamente con l'applicazione di tale occhio, il predestinato perderà il suo potere magico, ma in cambio potrà vedere tutto, che sia il futuro o che siano i pensieri delle persone. Naturalmente questa è solo una teoria. Poi scopriamo anche che il futuro Shogun possiede delle ideologie molto belle, molto più avanzate rispetto alle ideologie che esistono sia in quel paese sia nel regno di Clover, dove lo status sociale la fa da padrona, per non parlare poi del potere magico. Infatti Ryu vorrebbe creare un paese che è esente da tutte queste discriminazioni, ed è un bellissimo sogno, cioè Tabata continua a farci pensare male su questo personaggio, ma nel frattempo lo dipinge come un grand'uomo che possiede ideali fantastici, e questa cosa l'afferma anche il piccolo Sukeiro, ma il flashback viene interrotto da Ichika e rivela che a 13 anni, suo fratello, non solo ha ucciso suo padre, ma ha sterminato l'intero clan Yami, lasciando viva solo la sua sorellina Ichika, che la vediamo in braccia a Ryu entrambi insanguinati. Lo sguardo freddo di Sukeiro e il come l'autore lo ha disegnato continua a ricordarmi Itachi Uchika, e continua a pensare che il futuro capitano del Toro Nero sia stato costretto a fare ciò per un bene superiore, forse proprio quello del suo paese, forse con la morte del clan Yami quel mare sarebbe ritornato splendente come un tempo, o peraltro che ora non mi viene in mente. Ma è impossibile che Yami Sukeiro sia realmente un demone o che sia un cattivo, lo escludo a priori, perché contrariamente alla storia di Itachi, dove scopriamo prima ciò che fece al suo clan e poi verso la fine viene rivelata la verità riguardante quella notte, con Yami abbiamo prima conosciuto la persona e sappiamo quanto sia buona, e poi dopo verso la fine abbiamo scoperto che ha sterminato tutto il suo clan. Tabata sta citando Naruto, ne sono certo, ma lo sta citando all'inverso. Probabilmente dietro a tutto ciò c'è lo zampino della famiglia Ryudo, e forse è colpa proprio del padre di Ryuya, da cui possiamo vedere anche Asta riesce a capire che c'è qualcosa che non va, non può credere che il suo capitano abbia fatto una cosa del genere, c'è un pezzo del puzzle che non è stato ancora inserito. Ichika avrà visto sì qualcosa, ma non tutto, la vera verità è ancora nascosta nella mente del capitano del toro nero, e forse anche di qualcun altro. A parte ciò la sorellina di Yami vuole fare sul serio e vuole scontrarsi con Asta, mettendo a confronto i loro due pensieri, è per vedere chi ha realmente ragione, e vediamo una trasformazione di Ichika alquanto interessante. Infatti si copre con la magia dell'oscurità, creando questa armatura oscura, appunto, che ricorda molto l'armatura di fulmini che Lak crea per migliorare le proprie capacità fisiche. Non è una cosa nuova, è vero, ma è molto interessante, perché si tratta comunque di oscurità, di un potere negativo. Per questo trovo strano tutta la faccenda del clan Yami. Negli shonen, e non solo, il potere dell'oscurità viene sempre usato da un personaggio negativo. Pochissime volte viene usato da un personaggio positivo, quindi staremo a vedere cosa succederà dopo la rivelazione della vera verità. A parte ciò, il 342 è stato un capitolo magnifico, l'ho adorato, e come ho detto poc'anzi, manca qualcosa, manca un tassello per capire al meglio ciò che riguarda il passato di Yami, ma anche ciò che riguarda la mitologia del paese del sole. Invece, ciò che succede nel 343 non è super interessante, ma è veramente intenso, perché lo scontro tra Asta e Ichika è super brutale. E il protagonista, alla fine dello scontro, aveva capito come usare la propria scessione divina, ma vengono fermati dallo shogun, che ferma i colpi dei due ragazzini, che credo erano alla massima potenza, come se niente fosse, senza ricevere alcun danno. Continua a pensare che Ryu nasconda qualcosa di veramente gigantesco. E con il finale del capitolo, forse potremmo vederlo molto presto. Infatti arrivano nel paese del sole tre angeli, li chiamo così, tra cui c'è anche sorella Lily, e il capitolo finisce qui. Sono andato molto veloce con il 343 perché volevo approfondire alcune cose riguardante quest'ultimo. Nella parte finale del video, è interessante che Ichika usi l'oscurità come se fosse un buco nero che attira, grazie alla sua gravità, Asta. E questo mi ha ricordato lo Yami Yami no Mi di Barba Nera, che attira i fruttati e appena li tocca gli fa perdere i poteri dei frutti. Forse è una citazione? Possibile. Inoltre Asta ha migliorato di gran lungo la sua antimana skin, riuscendo a eliminare quando vuole la magia dell'avversario. Ma continua a pensare che gli serva un antimana zone. Ma chissà se mai la vedremo. Poi, passando invece ai tre angeli, come mai solella Lily rimane sorpresa nel vedere il paese del sole, sapendo che comunque è stata lei a mandare Asta in quel luogo? Forse la vecchia Lily sta combattendo con la nuova? Forse potrà riuscire a recuperare la sua memoria? Durante proprio questo scontro? Inoltre, chi sono gli altri due angeli? Uno sembra Damnatio, ma ha una cicatrice sul volto. L'altro non saprei proprio chi potrebbe essere. Forse sono personaggi nuovi? Possiamo anche vedere che le ali dei tre sono di grandezze diverse. Forse queste indicano la gerarchia dei ranghi all'interno del gruppo di Lucius? Oppure è solo uno sbaglio nel disegno e questa è solo una mia gigantesca pippa mentale? Fatto sta che ora la calma è finita per Asta e quest'ultimo dovrà mettere alla prova ciò che ha imparato nel paese del sole e dovrà riuscire a farlo anche se di fronte a proprio la donna che ha sempre amato, ossia solella Lily. Questo scontro è importantissimo per il protagonista, sia per il suo miglioramento fisico e sia per il suo miglioramento psicologico. Sono davvero curioso di leggere il prossimo capitolo. Però, prima di chiudere il video, volevo dirvi che Pumpling ha iniziato a mettere le offerte sul suo sito che riguardano proprio il Black Friday. Tutto novembre sarà l'insegna di sconti ed offerte. Quindi passate sul loro sito, trovate il link qui sotto in descrizione e nel primo commento. E non vi dimenticate di usare il codice ILGUN91 per ricevere un piccolo regalino. Ad ogni modo, fatemi sapere cosa ne pensate a riguardo, iscrivetevi al canale se vi va di supportarmi e seguitemi anche su Instagram. E noi ci sentiamo, come sempre, in un prossimo video.